Quest'anno la tradizionale cerimonia nell'ambito della provincia di Salerno si svolgerà presso la chiesa Santa Maria della Speranza di Battipaglia, alla presenza dell'arcivescovo della diocesi di Salerno Campagna Cerno Luigi Moretti, coaudivato dal cappellano provinciale della Polizia di Stato Don Giuseppe Greco. La cerimonia vedrà la partecipazione del questore della provincia di Salerno Maurizio Ficarra e delle autorità civili e militari.